Grandi festeggiamenti a Mottalciata con gli alpini per i 101 anni di Renato Colombo. Reduce di Grecia e di Albania, è stato tra i fondatori del gruppo delle penne nere del paese. Presente alla festa anche il presidente della sezione di biela dell'Associazione Nazionale Alpini, Marco Fulchieri, il capogruppo di Mottalciata Ezio Bongiovanni e il sindaco Roberto Vanzi. Oltre a naturalmente a tanti alpini, parenti e amici. Sono fatta a casa per venire a festeggiare il giovinastro. Tante grazie e tanti auguri a voi di una lunga vita. Dici grazie a tutti e sono a posto.